Quanto è importante meditare? Ciao, sono Luca Dallavalle, coach e ideatore del metodo Costruisci te stesso. La meditazione nel mondo occidentale è spesso snobbata o ritenuta di poca utilità. Negli anni invece questa pratica sta riscontrando sempre maggiori benefici e sembra addirittura che possa rallentare l'invecchiamento. Ci sono molti modi per meditare e ognuno può trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Certamente quello che mi preme sottolineare è che è importante iniziare il prima possibile con questa pratica. Se vuoi provare a meditare oppure desideri maggiori informazioni, contattami. Ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!